ti servono crediti non sai dove acquistarli toni tubo può aiutarti fifacoin.com e col codice toni risparmirai anche un 5 per cento sul tuo acquisto link in descrizione maglie da calcio a prezzi scontatissimi solo su buyfootballwear.com e al momento dell'acquisto inserisci il codice toni per ricevere un ulteriore sconto link in descrizione benvenuti in questo nuovo video ciao ragazzi sono youtube oggi siamo qui tornati con il solito appuntamento del giovedì con i premi di weekend league questo giovedì novità bestiale perché abbiamo un anno una new entry è quando parlo inglese una new entry squadra ragazzi abbiamo gullit 90 acquistato a 4 milioni 889 mila per chi mi segue live tutti i giorni già lo sa è notizia di 23 giorni fa quindi se non sei ancora iscritto iscriviti attiva la campanella così queste cose le sai subito in live poi abbiamo anche messi 95 bandico 91 che ho acquistato però già mi ho acquistato la settimana scorsa e abbiamo 552 mila crediti perché ragazzi vi lascio un poco del pacco venigli di ieri sera aveva trovato un'altra icona vi faccio vedere vai ti vado a dedicare un grande pack toni muoviti per ora se avete da fare andate via ragazzi non non vi trattengo io devo stare tutta la serata se pensate che è e quindi in moda mi ha ucciso no installato malattito Oddio Mangia la Germana House Oddio 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 Vabbè Vabbè Allora In ogni caso Se trovi icona Lo sciampagnino Ah Se trovi icona Lo sciampagnino E' d'obbligo però che se non scoppia Ah Quando vai stifo Ah Mamma lì Che bello Che bello è Quando trovi un'icona Ah Mu Parlami d'amore Mario Parlami d'amore Mario Eccoci qui ragazzi Andiamo adesso subito con i premi Di Weekend League Andiamo, anzi andiamo subito con i premi Di Division Rivals Allora Prendiamoci gli scambiabili Sempre Prendiamoci gli scambiabili Magari troviamo qualcosa di buono Livello 2 E Un mega pacchetto raro Un giocatore Misty Prime E 2 euro premium max Speriamo che escono i walkout ragazzi Eh Speriamo che ci droppano bene sti pack Ci facciano uscire qualcosa di buono Cominciamo dagli euro premium max Dai con calma Con calma Che se esce walkout qua E' già Tanta roba Oh lavagna che è Vai Dai Come on Come on Facci qualcosa di buono Qualcosa di buono E Mango lavagna Adesso però Pacchi interessanti Giocatori misty prime Vediamo un po' Qui sono solo giocatori Potrebbe uscire qualcosa di buono E' una lavagna Nope Nope Eh Giocatore raro Chi è? Mmm Wow Come andrate Bene ragazzi Per ora ho fatto 3.000 crediti con i premi di Rivals Mannaggia a me che non mi sono preso Che non mi sono preso i crediti Mega pacchetto raro E' tutto nelle tue mani Fammi usci il giocatore da almeno da 50.000 crediti Ti prego Se no proprio le ho buttati E' una lavagna Dai Non è walk out Ehi le cicci No Beh ragazzi che questo vi serva da lezione Non prendete mai i premi scambiabili Ecco vedete cosa succede con i premi scambiabili Mannaggia Mannaggia Mi è andata malissimo Andiamoci a vedere un attimo la nuova squadra della settimana Ragazzi Così ci rendiamo conto un attimo chi possiamo trovare Abbiamo Un Sadio Manet Magari a trovarlo Super Sub Nei picco rossi Abbiamo Marcolino Royce Pure buono Da trovare Abbiamo Lui Che è secondo me il più ambito Varan Anche se in realtà Non è che costa più di tutti Però E' uno di quelli lì Che Un modo per usarlo Lo devi trovare Secondo me Poi anche abbiamo Vardie Abbiamo tanti 82 81 Che usciranno sicuramente Wanbissaka Pure è simpatico Come Dersino Pure si potrebbe provare Però Pure Luisa Alberto Il nuovo Luisa Alberto De Pai Si Kostan Keiser Vabbè Alla fine Questi sono ragazzi Quelli lì un po' più forti C'è niente di Egezionale Andiamo a vedere un po' Dai Come on Come on Allora Foot Champions Oro 1 Come al solito Poi Due player pick Due pacchetti Da 100.000 50.000 credit Che secondo me È l'unica cosa buona Di tutto sto oro 1 Infatti torniamo a 600k E due player pick Ragazzi Cominciamo dalle player pick Però lasciate tutti un bel pollicione in su In questo momento Che portate tantissima fortuna ragazzi VAMOS E Oh VAMBISACA Un Terzino simpatico da provare Tante figure di se ne uscino ma Sadio Mané Però VAMBISACA Lo preferisco Lo preferisco Lo preferisco Va provato Sicuramente un bel baggatone 90 di velocità Eh oddio Il corto e il lungo Non sono proprio buonissimi I parametri difensivi Ci sta Beh Ma Lo proveremo Uff Ce lo fa sto Sadio Mané Yeah Ce lo fa sto Sadio Mané Non me la dai una di gioia Una 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 Guarda prendo il più scarso Ansaldi Prendo l'altro 82 Proprio per rabbia Non ha senso prendere gli altri Non c'ha senso Ah Due pacchetti da 100mila ragazzi Ci sono i team of the stage group Team of the group stage Io non so perché dico stage group Vabbè Di formazione Ci fate caso Comunque Pacchetti da 100mila Lo fai un bel Mbappé Sarò un bappé E tu non devi mollare Walk out Dai Almeno uno simpatico No eh Spagna Ramos 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 Noia No Non ho detto gioia Ma noia 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 Ultimo pacchetto ragazzi BOOM BOOM Vediamo cos'è Dai Dai Facci Un bel Blu Blu If Nemmeno walk out Vabbè Uruguaggio ATT Che delusione Stoani Chiesto Coso brutto Chiesto Coso brutto Bene ragazzi Per questo video è tutto Io vi ringrazio Per avermi seguito fin qui Se non siete ancora iscritti al canale Mi raccomando iscrivetevi Se volete supportare il progetto delle live streaming Ringrazio sempre i 1100 abbonati in questo momento al canale C'è il tastino abbonati Lo trovate a fianco al tasto iscriviti Leggete se volete sostenere il progetto con un euro al mese O con 2 euro o con 5 euro Come volete voi C'è tutto in descrizione C'è un gruppo telegram Riservato agli abbonati Dove potete scambiarvi consigli di fifa Lo trovate nei post community Una volta che vi siete abbonati Dato in dubb è tutto Noi ci rivecchiamo ad un prossimo video Bella ragazzi Ciao Ciao